sarà un video molto molto breve su un cazzato come una bestia spaccheria ogni cosa porca puttana da qui stasera porca troia questo qui sembra un paradiso mannaccia la puttana mignotta è una roba incredibile nel 2022 ancora ci sono problemi tecnici che non hanno potuto far vedere la partita su sportereven ma come cazzo si fa porca troia pagamo un cazzo l'abbonamento perché cazzo fa i mortacci vostri porca troia ma come cazzo si fa quindi che dico della partita l'ho vista e quindi nel meramento ho visto solo 1 a 1 che tra l'altro vinciamo anche 1 a 0 se ci siamo fatti subito pareggiare puttana mignotta stasera per carità per carità sarà solo un veloce video qui anche la forma 1 hanno fatto un macello una roba incredibile porca troia ed è elevato proprio lo stimolo di avere tutto porca puttana infatti gli hanno volato i fischi perché hanno fatto un macello incredibile con la safety car una vergogna immonda anche per lì porca troia complementi tra le clerche almeno secondo ma tanto Verstappen vince a uguale perché Verstappen vince a uguale ma però porca puttana fate un casino anche voi altri non ci capite proprio un cazzo non è niente la federazione secondo me porca puttana tra tutti quanti e quindi niente oggi purtroppo sarà un video un po' stupido è colpa mia colpa della gente incompetente che vige in Italia porca troia e quindi niente tra l'altro anche la cronica storia di su tutto il mercato web solo i cambi dicevano quindi non è che ne posso mentare niente non ho visto la partita purtroppo non per causa mia ma per causa dei stupidi che lavorano in Italia porca troia e quindi niente altro leggiamo avanti dei super sfughi problemi incredibili che nel 2022 non dovrebbero esserci invece sembra restare negli anni 80 sinceramente anzi ancora peggio negli anni 60 negli anni 50 quando è nata la televisione roba che non c'è se crede porca puttana roba che non c'è se crede mamma mia mamma mia per carità c'ho parole c'ho parole purtroppo non posso dire né migliori né peggiori non posso dire niente tanto ha segnato Arnautovic ma per carità 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 non c'è niente altro a dire purtroppo mamma mia mi viene da dire spacca di ogni cosa porca puttana il bello che può l'avviso l'hanno dato a fine primo tempo hanno scritto era scappato fuori live ho messo cliccato si avvisa la gentile che questa partita non andrà in onda per un problema allo stadio della fermata ti c'è credi io non c'è credo io non c'è credo per me è un problema è loro secondo me andate la bevete a qualcun altro porca mignotta e quindi niente non so niente della partita la cronistoria è due righe hanno detto solo al primo tempo che Di Gregorio ha fatto uno svarione come disegnano e Redolfi ha salvato forza sulla linea lo so quindi non so niente purtroppo mi dispiace porca troia posso fare altro non so padre Pio con la bilocazione che potrei trasferire anche tu lì direttamente porca troia problemi che non riguardano me porca puttana infatti mi stava in cazza stava a buttare via tutto il computer lo stava a buttare fuori perché dopo quando è pieno le madonne svalvolo porca troia e quindi niente uno a uno comunque vabbè però se potete anche vincere porca puttana ne è durato manco due secondi in vantaggio e niente quattro punti va bene così c'è nient'altro da lì non so nienti mi tocca vedere dopo se fanno vedere anche gli lights forse e quindi niente appuntamento alla prossima sempre 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 forza Pio questo è peggio del sport in questo telefono